Voi sapete il mio taglio politico qual è da sempre, da quando faccio politica presso il Comune di Pescara e tra i cittadini, è quello di aiutare le persone bisognose. E mi sono sentito in qualità di consigliere comunale di scrivere al Presidente Sebastiani per chiedere la possibilità di avere un numero ovviamente limitato di abbonamenti gratis da destinare alle persone bisognose. Perché oggi voglio ricordare a tutti i telespettatori, anche a lei, di andare allo stadio è diventato ovviamente oneroso, soprattutto per una famiglia. E non è possibile assistere che bambini o ragazzi più fortunati possano assistere alle prestazioni della squadra e altri invece che hanno i genitori disoccupati devono stare praticamente fuori ai cancelli a sentire le grida e gli urli di chi invece si sta divertendo. Per cui sarebbe un buon gesto da parte del Presidente Sebastiani. Sono sicuro che accoglierà con favore questa iniziativa e che nei prossimi giorni, come il suo stile, dà delle risposte positive a queste persone meno ambienti. Hai parlato di abbonamenti gratuiti o comunque a prezzi molto molto bassi? Sì, sappiamo che le società del cascio sono società per azioni, per cui ovviamente se non si potesse fare la prima ipotesi, cioè quella di avere degli abbonamenti gratuiti, almeno di averli con dei prezzi simbolici che possono essere usufruiti appunto da queste persone il cui reddito è zero.